Good morning in Genova, siamo Sara e Giorgia, volontari in servizio civile nella sezione genovese di AISM, l'associazione italiana Sclerosi Multipla. Durante questo periodo di emergenza sanitaria, nonostante non fossimo presenti fisicamente in ufficio, siamo rimasti attivi per stare accanto alle persone con Sclerosi Multipla, attraverso una rimodulazione dei nostri servizi. Dal 15 giugno la nostra sezione è nuovamente aperta ed operativa, ma abbiamo comunque bisogno di un aiuto, di altri volontari come noi. L'associazione, attraverso progetti e iniziative, aiuta le persone con SM a confrontarsi, ad affermare i propri diritti e all'autodeterminazione. Insomma, l'obiettivo è renderli protagonisti delle loro stesse vite. Proponendomi come volontari, in sezione, in base alle vostre attitudini e disponibilità, potete affiancare le persone con SM e le loro famiglie, tramite attività di informazione, sensibilizzazione, sostegno alla mobilità ed eventi di racconta fondi nazionali ed iniziative locali. Per unirvi a noi, contattateci al nostro numero 010 25 12 296. Per altre informazioni e notizie, collegatevi al sito di El Celivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.